E le sue cellule si sviluppano a una velocità che stimiamo essere quattro volte quella normale. Mamma, ma io sono un gigante. La sua vita corre più in fretta della nostra. Lui vuole vivere una vita piena e non guardarsela sfuggire davanti agli occhi. È per questo che non vado a scuola. Ha la nostra età, ma dimostra 40 anni. C'è che ha il tuo muoio tante ed è pieno di peli. Vai, ferma! Tu sei un mostro? No. Aspettate, io non la voglio più toccare. La palla è contaminata. Adesso quella ha toccato lui. È vero, non la tocco più neanch'io. Ehi tu, magiste! Sai giocare a basket? Sì, con mio padre. Amati, previ, amici! Sì, con mio padre! Sì, con mio padre! Premiambi.com Premiambi.com Eri una stella cadente in mezzo a tutte le altre normali stelle. Grazie per la visione!